Maurizio Gasparri, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a voi! Vieno a urlare poco perché oggi l'Ode è dedicata molto al Cagliari e alla Sardegna, eh! Eh, ovviamente! Come tutti... Palli di Mamutones! Come tutti lunedì, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ci racconta il campionato di calcio in Rima, eh, eh... Un saluto a Giovanni Minoli, direttore di tutte le radio e di tutte le televisioni del mondo! Eh, magari! Non me ne sono... però non me ne sono accorto! Eh sì, no, no, no! Va bene, però moralmente... Ah, moralmente sì, va bene! Senta, signor Gasparri, quindi l'Ode di oggi è intitolata... Ode al Ninja, perché Ninja che sarebbe Nainggolan, perché non... Bravo, è vero! Un gol pazzesco! Ha fatto un gol pazzesco, ha ritrovato anche un suo equilibrio dopo anni, un po' turbolenti! Ha trovato anche colore dei capelli giusti, sì! Sì, non c'ha più la crescita, è una roba normale! Senta, signor Gasparri, le facciamo una musica un po' sarda... Io vorrei i mamutoni, sono tranquilli con le campagne! Una cosa, una cosa! No, la solita! Un barritta! Maria Carta, Maria Carta! Vada con l'Ode, vada! Vado con l'Ode, vada! Sì, vada, vada, vada! Marcia il Cagliari potente, con i viola travolgente, vince e segna una cinquina, cuoce bella Fiorentina! È la squadra del momento, la Sardegna è in gran fermento, Nainggolan fa il condottiero, nuovamente forte e fiero! Le vittorie e i piedi buoni fan fiorire i paragoni, Cigiri vanno evocato, mito e alfiere del passato!